Ciao a tutti, sono felicissima di avere qui tutta la mia famiglia. Per me questa, mancano, però per me questa è tutta la mia famiglia, amici e parenti. Ora, voglio farvi un regalo a voi, ieri il risultato del midollo pulito. E quindi oggi ho due motivi per festeggiare, i miei 40 anni e il risultato. Poi vorrei dire due cose, una che per me questi 40 anni sono un risultato enorme, arrivare e festeggiarli. Ci ho tenuto tanto, ho fatto tutto da sola, proprio perché volevo che questa fosse la mia festa. E un riscatto. E niente, siccome qui non si piange, ma si deve ridere, buona festa a tutti e grazie ad ognuno di voi. Grazie a te!